Quando sto male solitamente non faccio mai dei video ma questa volta devo per forza farlo perché credo sia stata la volta dove sono stato peggio in assoluto ed è anche il motivo per il quale sul canale non escono video da credo 7-8 giorni proprio perché era impossibile registrare ora vi spiego esattamente quello che mi è successo perché non è stata una normale febbre ma adesso comunque capirete adesso sicuramente capirete innanzitutto vi dico che se durante questo video non sono tanto vedete anche adesso che parlo piano non sono tanto carico eccetera come di solito è proprio perché non sto ancora bene al 100% cerco di registrare sempre appena riesco ma non sto ancora bene al 100% e soprattutto ora credo sia la prima volta che non ho la febbre per più di 3-4 ore di seguito per farvi capire quindi subito ne ho approfittato per registrare vedete e raccontarvi appunto esattamente quello che è successo innanzitutto partiamo dal presupposto che esattamente l'1 di giugno doveva venire qui Foxy a Milano anzi in realtà è venuto doveva venire perché ho detto vieni a Milano ci organizziamo registramo dei video veramente fighe avevo un sacco di cose belle in mente eccetera quindi volevo approfittarne appunto per andare a registrare con lui qual è stato il problema il problema è stato che appena è arrivato ok quindi mentre stavo andando a presto le stazioni che sono uscito di casa e già mi sentivo che non stavo tanto bene cioè già sentivo che c'era qualcosa che non andava però non riuscivo a capire cosa fosse non avevo la febbre però sentivo comunque che avevo un po' di mal di testa non stavo benissimo no sapete qualche volta capita quindi ho detto vabbè adesso mi bevo una Red Bull al bar e sono a posto no quindi vabbè andiamo al bar parliamo mi bevo la mia Red Bull sto stanco praticamente non sto tanto bene per tutto il giorno però vabbè fa niente ok ho detto è una cosa che capita che è successo subito dopo e ho detto oh stasera cosa vogliamo fare si è appena arrivato festeggiamo tra virgolette il fatto che si è appena arrivato era giovedì sera il giorno dopo nessuno andava a scuola c'era festa quindi ho detto dai andiamo a farci una bella serata in discoteca no non sarebbe stato in discoteca a Milano andiamo ci divertiamo andiamo praticamente organizziamo il tower organizziamo tutto eccetera eccetera primo problema cosa succede praticamente stava semi piovendo la discoteca era all'aperto stava semi piovendo per fortuna noi non abbiamo fatto la fila però il problema è stato che dato che appunto stava piovendo sono stato comunque 5-10 minuti sotto la pioggia eccetera già non stavo bene con un po' di vento maglietta maniche corte quindi già li iniziavo a dire cavolo già sto male se poi la situazione è così domani mattina mi risveglio con la febbre e ora come ora direi magari fosse soltanto febbre perché poi cosa è successo? dentro la discoteca dato che c'erano meno bicchieri rispetto a quelli che appunto eravamo noi al tavolo praticamente ci sono state due persone che dovevano aspettare a bere e diciamo bere dal bicchiere degli altri perché c'era talmente tanta gente che se ne andavamo a chiedere altri di bicchieri ci mettevano una vita ad arrivare no? quindi abbiamo detto vabbè o aspettando secondo voi beviamo noi qualcosa e poi dopo bevete voi dato che c'era questa cosa non tutti avevano il proprio bicchiere no? quindi ognuno beveva magari una volta io bevevo dal bicchiere di una persona una volta lui beveva dal mio eccetera eccetera è stato un po' organizzato così a caso però questo è quello che è successo quindi il problema quello è stato che torno a casa e mi sento veramente molto molto male mi gira tanto proprio tanto 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 la testa sto malissimo mi inizia a venire mal di gola ok? e questa cosa che vi ho detto prima dei bicchieri che appunto non tutti avevano l'ora è molto importante perché adesso capirete in pratica la sera stessa facciamo praticamente tra virgolette after nel senso che non dormiamo siamo tornati alla discoteca alle 5 stiamo andando a dormire alle 7 io sono stato tra l'altro anche fuori in terrazzo a parlare al telefono per mezz'ora col vento quindi altra cavolata che ho fatto che già stavo molto male che succede? praticamente io gli dico appunto a Foxy guarda che secondo me domani mattina mi sveglio con la febbre perché ora non sto per nulla bene e ho mal di gola continuo a tossire avevo anche il raffreddore mi stava salendo la febbre mi sentivo proprio male quindi ho detto speriamo che non capiti prendo un occhio prima di andare a dormire e vado a dormire la mattina dopo mi sveglio ragazzi mi sveglio in una situazione veramente tragica per ora nel senso che avevo mal di gola tantissimo veramente tanto mal di gola che facevo quasi fatica addirittura a bere l'acqua a mangiare avevo proprio un mal di gola allucinante febbre quindi un casino eccetera eccetera ho detto vabbè sarà una cosa che tra uno due tre giorni mi passa no speriamo cioè comunque tu segui sei giorni speriamo mi passa quindi durante la giornata sempre del primo giorno che appunto sono stato male continuavo sempre ad aumentare nel senso che la tachipirina non faceva effetto non faceva proprio per non faceva effetto mi passava la febbre ma avevo comunque un mal di gola allucinante e ero stanchissima non riuscivo a muovere non riuscivo a fare praticamente nulla no secondo giorno vado a dormire appunto il giorno 1 mi sveglio il giorno 2 ragazzi per fortuna Foxy non ha dormito nel letto con me perché dato che stavo male è andato a dormire in un altro letto mi sveglio e raga la situazione era tragica nel senso che mi sveglio le 6 di mattina con un mal di gola che era un mal di gola che io in vita mia non ho mai avuto raga una cosa allucinante per farvi capire quanto era grave la situazione non riuscivo ad ingogliare la mia stessa saliva perché mi faceva talmente tanto male che quasi ciangevo dal dolore cioè non riuscivo proprio ad ingogliare avevo la gola così cioè veramente avevo tutta la gola gonfissima non riuscivo neanche a bere l'acqua e ero setato tutto il giorno non riuscivo a bere non riuscivo a fare nulla non riuscivo a mangiare infatti il primo giorno non ho mangiato assolutamente niente né pranzo né cena e non avevo fame perché stavo veramente male ho iniziato a prendere occhi eccetera già con l'occhio un po' riuscivo a migliorare ma il problema era sempre la gola che migliorava un po' da farmi un male assurdo riuscivo a bere sorsi d'acqua piccolissimi con uno sforzo assurdo veramente però prima proprio non riuscivo neanche a bere la situazione era veramente gravissima io speravo che il terzo giorno un po' con appunto medicina e cita migliorasse mi sveglio il terzo giorno che la situazione era ancora peggio mi sveglio proprio durante la notte 3, 4, 5 volte chiamo i miei non riesco a dormire dal mal di gola siamo arrivati addirittura raga ad un punto dove io per addormentarmi avevo una ciotola di fianco al letto dove io sputavo al posto che ingoiare per non ingoiare la saliva perché non riuscivo assolutamente a farlo ho iniziato a prendere un occhio ogni 3 ore sbagliatissimo perché l'occhio fa malissimo ragazzi al fegato, all'intestino ma io continuavo a prendere occhi su occhi febbre altissima tutto il giorno a letto prima che continui il video e la storia vi ricordo di iscrivervi al canale raga fatelo se volete rivedermi forte quindi mi raccomando iscrivetevi al canale non riuscivo raga a fare assolutamente nulla e voi immaginatevi con Foxy che è venuto a Milano per me e non riuscivo a fare niente raga veramente niente non mangiavo, non mangiavo, mi sentivo male perché non mangiavo ma non riuscivo a mangiare avevo perennemente fame tutto il giorno e non riuscivo a mangiare nulla raga nulla, 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 nulla voi immaginatevi no? ogni volta che mi ingoiate vi tirano due pugni sullo stomaco ok? non è ovviamente paragonabile il dolore però per farvi capire cioè era proprio impossibile ok? impossibile l'unica cosa che riuscivo a fare e anche quella in modo molto difficile era bere latte caldissimo gocce piccolissime ogni tanto quando prendevo l'occhio se no per il resto era veramente un disastro non sapevo cosa fare e era anche weekend quindi le dottoresse eccetera appunto la mia dottoressa era chiusa non potevo andarci ed era un grandissimo problema ok? non uscivo, non facevo nulla eccetera la febbre ogni giorno mi continuava a salire sempre di più prima 37 poi 37 e mezzo poi 38 siamo arrivati addirittura quasi a 39 di febbre ma il problema grosso vero non era la febbre ma era la gola raga perché io non avevo più il mento innanzitutto cioè non avevo più il mento il mento e la gola erano collegati perché era tutto gonfi e poi soprattutto iniziava a fare effetto l'occhi nel senso che si faceva effetto ma iniziava a fare effetto per il mio corpo perché bisognerebbe prenderne uno ogni 6, 7, 8 ore ne prendevo 5 al giorno uno ogni 3, 4 ore la situazione era molto grave poi soprattutto stomaco vuoto perché non mangiavo avevo anche un mal di pancia allucinante e ero veramente in crisi totale non ero mai stato così tanto male al che cosa succede? finalmente lunedì vado dalla dottoressa quindi due giorni fa vado dalla dottoressa in una condizione pietosa arrivo subito lì lei mi visita un secondo apro la bocca e lei era sconcertata nel senso che mi vede con la luce dentro la bocca era sconcertata perché mi ha detto che avevo delle tonsille lì comunque avevo le tonsille e la gola che erano grosse così cioè raga letteralmente erano enormi infiammate infiammatissime avevo delle bolle praticamente qui bianche dentro tutta la gola eccetera e praticamente mi ha detto che ho lo streptococco praticamente lo streptococco è avevo uno streptococco forte molto 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 forte già lo streptococco normale è bruttissimo io ce l'avevo proprio forte quindi a livelli che veramente raga come ho detto non riuscivo a mangiare lei mi ha detto ma perché hai aspettato 5 giorni a venire qui? cioè già il primo giorno con il dolore che avevi immagino dovevi venire subito e infatti ho sbagliato appunto in questa cosa qui devo prendere l'antibiotico per 7 giorni ma raga cioè veramente io vi giuro che è stata una situazione allucinante allucinante perché ero tipo isolato in casa non potevo nessuno poteva entrare perché potevo infettare le persone potevo infettare quindi nessuno poteva entrare in questa camera io stavo tutto il giorno qui vomitavo anche cioè mi è successo 2-3 volte perché se non mangi e bevi solo ad una certa ti viene da vomitare quindi il latte l'acqua che mangiavo continuavo a vomitarla in continuazione vi dico soltanto che sputavo dal naso robe veramente raga assurde una roba assurda di una certa addirittura ho pensato anche una mattina di andare in ospedale perché veramente raga non riuscivo a chiudere occhio e la sensazione più brutta sapete quella è quando sei stanco perché non dormi sei stanco perché non dormi da veramente tutto il giorno non sei riuscito a chiudere occhio vuoi dormire ma non riesci a dormire perché hai mal di gola raga automaticamente durante il sonno ogni tanto ingoi il problema è che quando mi succedeva durante il sonno mi svegliavo dal dolore capito quindi mi svegliavo ogni 10 minuti ogni 20 minuti poi cos'è successo andando avanti col tempo perché il primo giorno non fa effetto subito l'antibiotico mi veniva addirittura male anche se non ingoiavo cioè il mio collo era talmente gonfio che avevo un male indescrivibile anche se non ingoiavo cioè mi faceva male perenne 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 cioè sembrava veramente che mi stesse mi esplodeva la gola ok cioè era veramente una situazione paurosa ora è da 4 giorni che prendo l'antibiotico sto un po' meglio infatti riesco a parlare non riesco ancora ad urlare ma riesco a parlare e mi fa ancora un po' male la gola ma ora comunque molto meglio domani in teoria dovrei registrare un video speriamo che riesco a farlo organizzato però ragazzi questa è la situazione veramente assurda veramente 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 assurda cioè non pensavo di vivere una situazione di questo tipo ragazzi mai perché fidatevi se vi informate già lo streptococco è pesante ma come l'ho preso io a livelli alti è veramente una cosa spero che non vi capiti mai perché veramente ragazzi è molto 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 tragico ah e tra l'altro fatemi anche voi sapere nei commenti cosa ne pensate quindi se a voi vi è mai capitata una cosa del genere se non vi è mai capitata cosa vi è capitata cioè fatemi sapere appunto sotto nei commenti perché sono curioso anche io di sapere se sono l'unico a cui è successa questa cosa o no ho fatto questo video veloce per appunto spiegarvi quello che è successo e io vi ricordo iscrivetevi al canale attivate la campanella e soprattutto commentate mi raccomando ragazzi lasciate tanti commenti commentate fatemi sapere anche voi appunto cosa ne pensate e nulla noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao